Abbiamo finalmente votato il fatto che gli operatori che lavoravano in provincia nei centri per l'impiego siano anche quelli a tempo determinato assunto dalla giunta regionale. Ci siamo arrivati in ritardo, la graduatoria dei tempi determinati non è ancora esaurita, ci hanno promesso maggio. Dovevano far partire le misure ora annunciate in conferenza stampa per gli enti accreditati e quindi privati che si occupano di occupazione. Stanno arrivando sui centri per l'impiego politiche del progetto giovani e il reddito di cittadinanza, quindi bisogna aumentare il personale. Questo personale è 20 anni, 10-15 che lavora in provincia e quindi è precario. Avevamo chiesto un bando per tre anni e quindi un processo di stabilizzazione. Noi stiamo con il fiato sul collo alla giunta, la giunta è troppo lenta e quindi non siamo sicuri che i servizi ai cittadini più deboli, disoccupati, lunga disoccupazione e i giovani in cerca di lavoro trovino le adeguate risposte sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Torneremo ancora su questo argomento.